E tu chi sei? Questa è una stanza davvero gradevole. Tu sei Yoko? Veramente io mi chiamo Ayako. Ora quest'uomo è completamente sotto il mio controllo. E così controllerò anche Yoko. Eccoli lì, quella sarebbe la sua ragazza. Che cattivo gusto, io non andrei mai in giro vestita così. Non vi hanno insegnato che spiare non è buona educazione? Piacere di conoscerla, signorina Yoko Manu. Ma, ma quella ragazza è esattamente uguale a te? Cosa? Ma chi sei? Vuoi sapere chi sono io? Io sono Ayako Manu. Ayako Manu? Ayako, sei una ragazza stupida. Quando s'attacca bisogna essere certi della vittoria. E tu hai fallito miseramente come una dilettante. Azusa, tu avresti dovuto aiutarla. Vergognati! Mi dispiace tanto, nonna. Non succederà più. Ti giuro che sconfiggerò Yoko. Dammi un'altra possibilità, ti prego. Sei debole, Ayako. Troppo. Ho investito molto su di te e mi auguro non avrai dimenticato il tuo compito. No. Privare Yoko di tutto ciò che è suo prima di finirla è una buona idea, ma poi devi riuscire a sconfiggerla. Ricordati, esigo che tu sconfiggi Yoko una volta per tutte. Sono pronta, Ayako. Ho accettato la sfida. A noi due! Questa ira che provo è stata trasmessa da madre a figlia e poi da nonna a nipote. Finché io non avrò il titolo che merito, e il mio compito non sarà assolto, continuerò a combattere la mia più grande nemica. Io sono Ayako, la cacciatrice di demoni. Siamo pronte! Grazie a tutti!